Una pizza coloratissima, estiva, a base di pomodorini gialli, rossi, neri, basilico verde, basilico viola, pinoli, origano fresco, un tripuglio di colori. Per un'estate che sta arrivando... Per l'occasione è stata addirittura creata una pizza ispirata ai colori dell'arcobaleno. Ad Arezzo è infatti tornata la notte arcobaleno, la serata più cool dell'estate, una manifestazione che ogni anno colora le vie del centro storico chiuso al traffico. Per celebrare l'inizio dell'estate, quest'anno si celebra anche qualcosa di più dell'inizio dell'estate, si celebra la rinascita, la ripartenza delle attività commerciali, della vita sociale in generale dei nostri territori. In tutta la Toscana, nella fattispecie, oggi siamo ad Arezzo con questa bella iniziativa interpretata dai cuochi Aretini, dal presidente delle pizzerie Renato Pancini, con questa sua interpretazione dell'arcobaleno e dell'estate. Oltre 300 le attività tra ristoranti, bar e pizzerie che hanno preso parte all'iniziativa e hanno così accolto in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle regole le persone tra tavolini allestiti sotto le stelle.